ciao io sono silvia il mio brand è perché no gioielli realizzo gioielli componibili trasformabili con l'idea di possedere un pezzo che possa in un qualche modo cambiare o nella forma o nel colore e mi piace da morire il mio brand del mio nome che è abbastanza improbabile nasce proprio da così da un atto rivoluzionario mio interiore è stato un momento della mia vita in cui ho deciso di fare un enorme cambiamento e questa cosa mi spaventava da morire quindi prendere a mano quello che avrei sempre voluto fare e buttare all'aria studi un altro tipo di professione un certo tipo di stabilità magari anche economica per provare a inseguire una strada diversa e mi ricordo che proprio interiormente mi facevo questa domanda perché no perché no perché non puoi farlo sentire che non avevo una risposta a questa domanda che effettivamente non c'era nessun motivo per cui io non potessi fare quello che volevo inventare quello che volevo mi ha aperto un mondo penso che alla fine l'idea di gioielli componibili o reversibili venga proprio da lì dalla dal pensiero che ci sono sempre delle delle altre possibilità che magari non vediamo che a colpo d'occhio non appaiono ma le cose possono sempre essere trasformate cambiare forma cambiare colore esattamente come come succede con con i gioielli che faccio grazie grazie grazie